Ciao a tutti e ben ritrovati, oggi parliamo di Thomas Palacios, questo ragazzo argentino che sta arrivando all'Inter, non è ancora definito ma insomma dovrebbe essere ufficiale alla fine dei conti, almeno è ufficioso, ecco arriverà, è vero che si va avanti da ormai giorni, settimane e ogni giorno sembra quello buono, ma sappiamo che nel caso dell'Inter ogni trattativa è un po' un parto per varie ragioni già affrontate, quindi bisogna avere un po' di pazienza, io credo che arriverà comunque a minuti, a ore, a giorni, ma insomma arriva, quindi parliamone, cerchiamo di capire che giocatore è, che caratteristiche ha, quindi ve lo descrivo, ve lo racconto, ve lo analizzo, vi porto anche un po' di dati, un po' di numeri, vi faccio vedere anche due grafici verso metà video così e poi andiamo a vederci anche delle azioni, vediamoci proprio dei video, degli spezzoni di sue giocate eccetera per commentarlo e vederlo anche diciamo con gli occhi ecco, capire un po' come si muove, punti forti, punti deboli. Ovviamente come succede molto spesso, ahimè, ahimè, è un giocatore che secondo me è descritto, da quello che vedo un po' in giro, non in maniera precisissima e come spesso succede ci sono un po' di malintesi sul giocatore, lo si equipara ad altri giocatori che abbiamo già, ma secondo me si sbaglia e poi vi farò vedere il perché, insomma ve lo racconto. Prima di iniziare con lui vi ricordo però come sempre di lasciare like al video, di commentare dicendo la vostra, condividerlo, ragazzi condividete i contenuti perché è l'unico modo per crescere, per fare informazione, per insomma fornire strumenti in generale a chi, e raggiungere chi è interessato ecco, a certe cose, quindi condividete e iscrivetevi al canale. Io ringrazio chi fa l'abbonamento, chi fa i super grazie e ho pubblicato proprio ieri notte la live che promettevo su tantissimi temi proprio per abbonati, quindi chi fosse abbonato può rivedersi la live. In la live parliamo di tante cose, tra cui anche il discorso proprio approfondito di Darmian, la gestione della fascia destra, eccetera eccetera, che è un argomento per me semplice, però in realtà mi rendo conto che forse è molto complesso, perché più di qualcuno non riesce molto a capire qual è il messaggio e ovviamente c'è chi semplifica e tira fuori l'antipatia, la simpatia, senza ricordarsi che io per quest'estate ho proposto, nelle varie proposte di Excel, eccetera, insomma del mercato, ho proposto io di rinnovare Darmian, di rinnovare Darmian e al massimo tra i due di cedere Dumfries, quindi è strano oggi sentire che io ce l'ho con Darmian e voglio difendere Dumfries. È un po' più complessa, un po' più sfaccettata, un po' più sfumata, più articolata la questione di così, però vabbè non ci sto perché l'ho spiegato tante volte, c'è la live per chi volesse fare l'abbonamento, ho l'abbonamento e vabbè, non è questo il video. Andiamo a Thomas Palacios, dicevo, frutto, un giocatore un po' ancora mal interpretato secondo me, perché si va molto sulla superficie, si guarda i centimetri, allora ok Bissek, si guarda il fatto che è mancino, ok bastoni. Allora partiamo dai dati, intanto è un 21enne, quindi un giocatore molto giovane, è mancino, arriva dal Talleres che ha il, diciamo, la squadra che ha il cartellino, però come sapete in Sud America c'è sempre la comproprietà, mezza quota è della gente, però mezza di un club, però mezza di un'altra, che ha il contro riscatto, insomma, delle cose veramente incredibili, non ci interessano, adesso sinceramente queste cose un po' burocratiche, mi interessa più il giocatore, e di fatto è in prestito attualmente all'indipendiente Riva da Via, quindi un'altra squadra, e gioca in questa squadra come braccetto, quindi per sé conosce perfettamente il modulo, conosce la posizione, quindi è anche facilitato in teoria, forse l'Inter lo sceglie anche per questo motivo qua, il suo costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni e mezzo, più 4 e mezzo, 5 di bonus, potrebbero esserci anche altre clausole, ma caso mai ne parleremo, al momento è tutto un po' complesso, diciamo così, la formula è molto complessa, è un buon colpo, io lo valuto bene, soprattutto perché è giovane, a parte che non mi dispiace, adesso lo vedremo, però insomma è un giovane, è un ragazzo molto giovane, che costa poco, e già queste sono due cose ottime per la situazione dell'Inter, anche perché il suo impatto annuale a bilancio nei costi rosa è modestissimo, siamo sui 2 milioni e mezzo, più o meno quelli di Bissec, ecco, su questa cosa si assomigliano, ecco, sull'età di acquisto più o meno, e i costi circa, ecco, poi in realtà Palacios potrebbe costare molto di più, in realtà, però si va verso gli 11 o anche più, eccetera, però, per sé, attualmente l'impatto è quello, perché dovrebbe avere un ingaggio modesto, si parla di, insomma, addirittura meno di un milione netto, quindi va bene, sono colpi giusti questi, dicevo, simile a Bissec come cifre, e quindi basso rischio dell'operazione, basso rischio di essersi sbagliati, aver buttato via un sacco di soldi, e alta possibilità invece di valorizzazione, ed è quello di cui ha bisogno l'Inter, l'Inter fa troppo poco queste operazioni qua, molto spesso invece, per paura, prudenza, status quo, eccetera, eccetera, invece tende a fare altri più operazioni, almeno negli ultimi anni, adesso forse si invertirà un pochino la rotta, però, i colpi giovanissimi di questo genere qui sono eccezionalità, non è che ne abbiamo fatti zero, ma sono eccezionalità assolute, e molto spesso sono colpi che vengono operati per avere il sesto centrocampista, il terzo braccetto del singolo ruolo, cioè Bissec per esempio era, il terzo era Pavard, Darmian e Bissec nell'idea dell'Inter iniziale, perché l'esterno l'anno scorso erano Dunfries, Dunfries è quadrato di per sé, no? Nell'idea iniziali, poi le cose sono cambiate, ma quello è, quindi ecco, è un po' un peccato che l'Inter valuti questi giocatori, magari faccia anche di buoni colpi, ma senza dargli veramente grande fiducia, speriamo che la cosa possa cambiare un po'. Attenzione, attenzione però, il giocatore, adesso lo vedremo, non è uguale a Bissec, è vero che i centimetri, è vero che l'età, è vero che il prezzo, ma non ha le caratteristiche di Bissec, non ha neanche le caratteristiche, secondo me, al 100% di bastoni. C'è questo gioco sempre di fare il simile, ma secondo me è un giocatore diverso, un po', ha delle cose di uno, cose dell'altro, ma è un po' diverso da entrambi. Ha fatto qualche presenza nell'Under 20 dell'Argentina, adesso, sia perché ha più anni, cioè perché ha 21 anni compiuti, ma anche perché comunque ha dimostrato di avere potenzialità, è passato, è stato promosso all'Under 23, quindi stiamo parlando di un giocatore che al momento non è un prodigio, per cui gioca già con la nazionale maggiore, titolare, queste cose qua. No, però sicuramente è un giocatore che può crescere e ha le sue potenzialità. Bisogna, secondo me, però, valorizzarlo, capirlo e farlo giocare nella situazione ideale, perché è un giocatore che, appunto, non è un fenomeno, un giocatore che ha delle potenzialità pazzesche per cui dove lo metti, anche se non è valorizzato, esplode. Bisogna capirlo e cercare di limitare quelli che sono i suoi difetti e valorizzare i suoi pregi. Questo è il modo per farlo crescere e per valorizzarlo e per far sì che lui cresca anche di valore, eccetera, eccetera. Allora, cosa importante, allora, andiamo a un po' di dati. Un po' di dati, non ce ne sono tantissimi in giro, bisogna un po' usare dei tool magari a pagamento e via, perché è un giocatore comunque giovane ed è un giocatore soprattutto non europeo, che non gioca in campionati importanti europei e quindi i dati sono un po' più carenti. Però, insomma, ho trovato quello che mi interessava. I suoi punti di forza, partiamo da quelli, i punti di forza sono duelli aerei, assolutamente, è un giocatore di un metro e 96, quindi bello alto e ha anche però una struttura fisica abbastanza importante, a differenza di Bissek, per esempio, che sì è alto, però è molto lungilineo, è un po' più secco, più lungilineo. Palacios è un po' più, diciamo, un po' più impostato, un po' più strutturato, leggermente. Dicevo, duelli aerei sono proprio il suo forte numero uno. dato 66% di duelli aerei vinti, contro, per esempio, se pensiamo a Bastoni, che dovrebbe essere il titolare nel ruolo che attualmente l'Inter ha pensato, Bastoni è a 56%, quindi 10 punti percentuali, non sono pochi, sono molto rilevanti, vuol dire che è proprio molto, molto forte di testa. Un altro punto di forza è la forza. Il giocatore è molto forte fisicamente, riesce molto spesso a vincere lo scontro fisico quando è a contatto con gli avversari, sposta facilmente, non si fa spostare facilmente, e lui riesce a spostare molto, invece, anche contarsi di spalle, eccetera, prendere molto e difendere molto la posizione. È molto forte, appunto, nei contatti, 2,4 contatti corpo a corpo a partita contro 1,5 di Bastoni, per intenderci. Sui contrasti, contrasti vinti sono il 63%, non molto distanti, in realtà, in questo caso, dalla percentuale di Bastoni. Il punto è che Palacios ne tenta molti di più, molti di più, quasi il doppio, quindi diciamo che ne porta a casa 6 a partita contro 3 di Bastoni. Attenzione che più contrasti tenti, più contrasti fai e più è difficile mantenere alte le percentuali, quindi se tu ne fai tanti e comunque hai una percentuale del 63%, vuol dire che è un punto di forza. I numeri ci sono, però vanno anche capiti, interpretati, calati, studiati, non basta solo il numero, vengono sempre un po' parametrarlo con vari altri colori, diciamo così. È forte nel posizionamento, pensate che fa circa 1,5 intercetti a partita contro 0,8 di Bastoni e sui lanci anche non è male, ne prova molti, ne prova molti, le percentuali in realtà non sono ottime, quindi a guardarle sembrerebbe che non è in grado, cioè non è un punto forte, in realtà però in questo caso, come vi dicevo poco fa, bisogna sempre vedere i dati, però poi bisogna guardare le partite, bisogna interpretare, bisogna capire come mai, eccetera. Basta solo fermarsi al dato, perché a volte alcuni dati ti possono portare fuori rotta. In realtà anche se non ha grandi percentuali di precisione sui lanci lunghi, secondo me è un punto, non è un punto debole il suo, ma potrebbe essere anche un punto forte addirittura, perché, dicevo, dipende molto dalla sua squadra. Molti lanci che fa sono molto lunghi, molto complessi, magari sono anche abbastanza precisi o sensati, però magari la qualità degli interpreti che ha intorno non sono capaci di stoppare per esempio il pallone, per dire, o di raggiungere la palla con la velocità, eccetera, eccetera, e quindi magari vanno persi. Se si alzasse il livello di chi ha intorno, magari quegli lanci diventerebbero interessanti o addirittura efficaci, eccetera. Oltre a questo, dipende anche da come gioca la squadra. Gioca spesso, la squadra gioca un po' più difensiva, è più quasi un 5-3-2 per certi aspetti, rispetto all'Inter, che sappiamo come gioca invece, e quindi tanti lanci lunghi sono anche un po' i famosi lanci lunghi un po' della squadra medio-piccola che deve cercare di buttare avanti la palla e quindi sono anche lanci lunghi con più, con un coefficiente di difficoltà molto più alto, dove spesso sono magari persi, eccetera. Però la direzione, la potenza, è tutto, non è male, io vorrei vederlo in un altro contesto. Secondo me, quindi, è un punto, diciamo, forte, insomma, o comunque valido, ha una bella pedata. E ultimo punto forte, secondo me, è la personalità. Subisce molti falli per essere un difesore centrale, quindi vuol dire che molte volte conquista dei falli, non è facile, diciamo, affrontarlo, ecco, e poi realizza moltissimi dribbling in uscita dalla difesa. Quindi è uno che ha personalità nel portare la palla, nel gestirla, nel condurla, forse anche troppo, però insomma, è un punto forte, perché comunque i dribbling riusciti a partita sono molto alti per essere un difesore centrale. E questo è. I punti deboli, partiamo dai punti, andiamo sui punti deboli. Primo punto debole, è un giocatore che tende a perdere un po' troppi palloni per i miei gusti, deve migliorare nelle scelte e nella freddezza quando ha il pallone, quando ci sono dei ritmi alti, magari certe fasi concitate del match, ritmo elevato, grande intensità, li tende a pasticciare un po' e appunto perdere palla. Altro punto debole e qua vi comincerete a capire, avere qualche, non so, qualche indizio per quello che sto per dire fra poco. Agilità e velocità. Sono un po' un punto debole, nel senso che, sì, è 1,96 come Bissek, ma non è rapido, agile, reattivo, veloce come Bissek e questa è una differenza notevole a livello tattico per il ruolo di cui stiamo parlando. Addirittura, ecco, in difesa, se puntato, Palacios paga nei primi metri, fa fatica e poi, non è che però paga i primi metri, però poi recupera perché poi ha le gambe che viaggiano il doppio per cui poi recupera. No, ha una velocità media e ha un'accelerazione scarsa, quindi una volta seminato poi non è che recupera l'uomo. Questo è, questo è da dire. Quindi, in poche parole, soffre gli spazi, soffre gli spazi aperti. Ecco che è un primo campanello d'allarme, già avevo già citato due giorni fa, attenzione, primo campanello d'allarme perché da noi sarebbe pensato come braccetto, ma il braccetto spesso deve affrontare l'uno contro uno, spesso deve fare delle scappate esterne o fare metri indietro sul lato dove c'è spazio aperto, magari non c'è ancora, non c'è il quinto, non sei protetto e devi, devi avere gamba, devi reggere l'urto, devi confrontarti con gente che corre e questo è un problema. E in avanti, invece, non ha quel passo, diciamo, da inserimento, quella reattività, quella, insomma, l'intensità di bastoni. Quindi, anche lì, insomma, manca un pochino il movimento, si accompagna, anche l'azione, supporta anche l'azione, fra poco vi farò vedere una cosa, però, non ha quella frequenza, quel ritmo intenso alla bastoni nel buttarsi in avanti, nel correre, andare sul fondo, mettere il cross, queste cose qua. Altro punto debole, soffre la pressione, se pressato, tende un po' a sprecare, a perdere, a perdere un po' di lucidità, di tranquillità, quindi magari fare qualche errorino tecnico, e questa è una cosa, insomma, da tenere in considerazione per un Inter che gestisce la palla, che spesso è pressata perché ha lei la palla, eccetera, eccetera, e quindi deve migliorare. Chiaramente, ragazzi, neanche dirlo, è un giocatore molto giovane, quindi è normale che debba migliorare. E, altra cosa, altro punto debole, i cross. Dovete pensare che gioca da braccetto, perché gioca da braccetto, ha fatto circa dieci partite, insomma, in questa stagione, stagione loro, inizio a primo, cioè un po' diversa dalla nostra, come date, ha già fatto dieci partite, e su dieci partite, sapete quanti cross ha effettuato da braccetto? Sbagliato. Qualcuno ha detto tre, sette, zero, zero cross da braccetto. Vi faccio vedere, infatti, una cosetta interessante. Allora, dov'è questa? Dove deve essere? Sì. Questa è la sua heat map, ok? Cioè, le, insomma, le posizioni medie, a partita, quindi non in una partita specifica, ma in media, nella stagionale, diciamo così, in media, in una partita dove va, dove gioca. Questo è la heat map di Palacios, ok? Vi dico subito di chi è. Adesso vi faccio vedere altre due heat map. Tenetevi pronti? L'avete vista, no? Mettete pausa, guardate un secondo, diciamo che, sulla sinistra, da braccetto, ha supporto alla manovra, perché vedete che va anche a centro campo, anche qualcosina in più, e ok. Vi faccio vedere un'altra heat map. Questa heat map. Di chi è questa heat map? Di bastoni. Di bastoni. Stagione, ovviamente non quella adesso, ma quella stagione in corso, perché la stagione adesso, serve una partita, non ha senso, quindi è della scorsa stagione, quindi ho preso più partite, no? Eccola qua. C'è una bella differenza, no? Questa, Palacios, bastoni. Palacios, bastoni. A parte il quanto rosso, il meno rosso, e vabbè, guardate, diciamo, ha un po' occhio, la percentuale, di rosso, diciamo così, di colore, che c'è, in difesa, e in attacco. A parte, la quantità di rosso, in generale, ma guardate proprio, la proporzione, tra le due fasce, no? Qui abbiamo una, la maggior parte, diciamo, l'80% di colore, che è nella propria metà campo, qui abbiamo il, boh, 60%, quindi bastoni, è molto più, offensivo, si inserisce molto di più. Vi faccio vedere un'altra hitmap, questa. Questa è l'hitmap di Acerbi, scorsa stagione sempre, Acerbi. Allora, togliete la parte, diciamo, centrale, perché ha giocato anche centrale, e tutto, però, ha giocato anche a volte braccetto, la togliete, la parte, diciamo, più centrale, vedete che assomiglia molto di più, se togliamo la parte un po' centrale del campo, centrale-destra, vabbè, ok, somiglia molto di più, Acerbi, Apalassios, che bastoni. Guardate, Acerbi, togliete la parte centrale, ribadisco, tenete un po' quella più di centro-sinistra, e vedete che la proporzione, è già più simile, ok? Ecco, questo, questo è quello che voglio dire, avete capito, senza, senza, senza dirlo, avete capito dove voglio arrivare, allora, Apalassios, per i punti forti che vi ho raccontato, i punti deboli che vi ho raccontato, e la heatmap, secondo me, è un giocatore, che per essere valorizzato al 100%, attualmente, vedrei bene, si può fare anche il braccetto, però lo vedrei bene anche al centro, vorrei vederlo anche al centro la difesa, anche perché i suoi punti deboli, sarebbero in parte, diciamo, calmirati, pensiamo alla velocità, pensiamo al, al, agli spazi aperti, sarebbe più protetto, ok? Pensiamo al fatto che non va a fare cross, se sei centrale, amen, chi se ne frega, ok? E i punti forti, invece, che ha, verrebbero evidenziati, perché in centro è importante avere contrasti, è importante vincere i duelli aerei, è importante avere forze, non essere spostato dal centro avanti, perché, di lato, magari, hai l'ala, il trequartista, un po' così, che spesso sono un po' più brevi linei, ti puntano, e lui va in difficoltà, in mezzo hai più il centro avanti, che a volte è un po' più fisicato, e lì, è un punto forte, invece, di Palassios, no? Quindi, questa, e poi i lanci lunghi, i palassios ce li ha, il palassio è da 60 metri, se il centrale di difesa, cambiare il campo con dei bei lanci così, può essere anche una cosa interessante. Questo è, questa è l'analisi, e pochi ho visto che l'hanno tirata fuori, tanti, ah, vicebastone, vicebastone, ok, può fare anche vicebastone, è giovane, può migliorare, tutto quanto, però, però, secondo me, il ruolo in cui sarebbe maggiormente valorizzato, in questo momento, almeno, finché non fa esperienza e tutto, potrebbe essere proprio il centro, il centrale, centrale. Non so, non so se l'Inter questa cosa la vedrà, non so se ci penserà, non so se ci ha già pensato, non ne ho idea, perché io continuo a leggere il vicebastone, i vicebastoni, i vicebastoni, però, però, questa è la mia analisi, è un giocatore che potrebbe fare un po' il doppio ruolo, e sarei molto curioso di vederlo proprio al centro della difesa, magari, soprattutto in virtù poi dell'anno prossimo, dove a Cerbio, De Vraio, tutti e due, non lo so, verranno in qualche modo accantonati, e quindi è. Altro punto debole finale è la disciplina. Attenzione, disciplina vuol dire i falli, i cartellini, eccetera. Ha preso attualmente cinque gialli in dieci partite, bastoni ne ha presi cinque, sempre come lui, ma in trenta partite. Questo vuol dire che è un giocatore che spesso, spesso spende gialli. Attenzione, uno può dire, eh, allora se lo metti in centro della difesa, eh, come vengono i gialli però di Palacios? Vengono proprio da quello che vi dicevo prima. Cioè, spesso è saltato, magari, da gente veloce, brevi linea, e tutto quanto, lui, se si perde l'uomo, non può recuperare, e spende il giallo. Trattiene, fa la scivolata, quello che è, insomma, per non farsi superare, se perde il tempo, è persa, diciamo, no, è andato, è seminato, e quindi lui spende il giallo. Se lo metti centrale, se lo metti difeso, diciamo così, coperto, probabilmente avrà molte meno situazioni in cui è puntato, eccetera, eccetera, perché non c'è lo spazio tra quelle giocate là, e poi non ci sono anche i giocatori in mezzo che hanno quelle caratteristiche, tendenzialmente, no, sono più gli esterni, le ali, eccetera, e quindi probabilmente andresti anche a, così a ridurre questo suo difetto, no, non lo esponi a queste debolezze, per cui poi spesso prende il giallo, ragazzi, cinque gialli in dieci partite, vuol dire che una partita sia una no, prende il giallo, no, quindi vuol dire che è un punto debole, ecco, quindi questa è la mia lettura, vedremo se l'Inter avrà questa lettura, oppure no, purtroppo, diciamo che abbiamo tanti punti forti, ma a volte la valorizzazione di alcuni giocatori, da parte di Inzaghi, lascia un po' desiderare, anche di questo abbiamo parlato nella live, che ho pubblicato ieri notte, appunto per abbonati, pensiamo a Di Marco, che all'inizio Inzaghi lo vedeva assolutamente come terzo, poi qualcuno, ausilio in questo caso, ha spinto forte per metterlo a quinto, e alla fine si è convinto, ma quanto abbiamo pagato con Di Marco terzo, per varie situazioni, pensiamo a Bisse, pensiamo ad altre situazioni, insomma, no, ecco non siamo perfetti, quindi un po' di timore ce l'ho, che questo giocatore abbia, ha delle qualità, però venga, non venga ottimizzato, no, come Bissec, che, diciamo che non eccelle dal punto di vista difensivo, eccelle dal punto di vista offensivo, ben più di Palacios, e invece lo si tiene un po' in difesa, no, quindi, invece di fargli fare almeno, almeno il doppio, non dico di metterlo per forza esterno, e basta difesa, però, vederlo nel doppio ruolo, queste cose siamo un po' indietrino, secondo me, mia opinione, adesso andiamo a vederci qualche azione, del signor Palacios, è molto lungo questo video, però, insomma, avevo proprio a cuore, di raccontarvelo bene, questo giocatore, proprio perché, si parte già, con questo misunderstanding di fondo, secondo me, è possibile, andiamo a vederci qualche azione veloce, non ci metterò troppo tempo, qua, Palacios, di testa, ovviamente, vedete che è bello imponente, è bello alto, va qua in anticipo, quindi bella marcatura, giocatore duelli, qua addirittura fa un tiro, ecco, non pensiate, è fortissimo di tirare distanza, sì, beh, ne fa pochissimi, questa è un'eccezione, ha fatto un bel, vi dicevo che è una bella pedata, comunque che sia tiro, che sia lanci lunghi, e quindi, e quindi ogni tanto, se si avvicina, può fare anche queste cose qua, però ecco, non pensiate che sia un tiratore, master level, per cui ogni partita, tira bombe dalla distanza, e fa l'incrocio, non è così, non facciamoci emozionare, dalle eccezioni, bisogna sempre vedere le statistiche, i trend, questo è un discorso, che ho tirato fuori anche su Darmian, non facciamoci emozionare, per la partita, bisogna vedere il trend, quello che ti dà, quello che non ti dà, in base, in confronto agli altri giocatori, eccetera, eccetera, mentalità scientifica, non di pancia, vediamoci altre azioni, ok, vabbè qua, insomma, il difensore comunque è bello roccioso lui, qui va a contestare il giocatore, vedete che comunque, se, chiaramente qui è di lato, se c'è poco spazio, non c'è spazio aperto, come qua, è un giocatore molto, molto grosso, e quindi comunque, il duello lo vince, se avesse avuto l'ala, 15 metri, di distacco, dalla linea laterale, avrei proprio voluto vedere, magari soffriva, vediamo qui, qui ecco, tenta una scivolata, secondo me è un po' rischiosa, il centrocampo non ce n'era bisogno, se prende male il giocatore è un giallo, evitabile, no, evitabile, quindi su queste cose è un po' così, qui, insomma, grazie anche alla sua stazza, riesce a prendere la palla, la difende, qui porta palla, quindi vi dicevo, grande personalità nel dribbling, però, qua vediamo, sia la cosa positiva, sia la cosa negativa, allora, porta palla, grande personalità, nel portare palla, vedete, chiaramente ha una gamba molto lunga, quindi si sposta il pallone molto in avanti, ecco, quindi va via, magari nei primi metri, diciamo, con questi controlli, poi però si imbottiglia, qui potrebbe tranquillamente, no, faccio vedere meglio, ecco qua, ottimo frame, potrebbe tranquillamente appoggiarla, a quel punto lì, al centrocampista centrale, o addirittura osare, un po' rischioso, ma insomma, osare un passaggio al trequartista, no, sempre centrale, invece cosa fa? Cerca una, cos'è la ruletta, questo non mi ricordo, insomma, cerca un dribbling così, in mezzo a due avversari, e non solo in mezzo a due avversari, anzi tre avversari, quattro praticamente, con anche, eh, la porta chiusa davanti, se anche fosse passato, aveva contro poi il difensore, qua potenzialmente è un contropiede, no, quattro contro tre, queste sono, ti dicevo, grande personalità, grande dribbling, però lucidità e scelte, a volte un po' da vedere, e infatti lì ha perso palla, dicevo anche, statistiche, perde palla, insomma, quindi ha ottime potenzialità, però deve crescere un po' su queste cose, sulle scelte, questa è proprio esperienza, eh, nulla di grave, si può aggiustare, anche qua, ma porta palla, la rischia un pochino, a volte va bene, però, insomma, eh, questo grande fisico, vedete che non va via di velocità, pura, se è lanciato, va, ma nei cambi di reazione, soffre moltissimo, qui ovviamente colpo di testa, lui è un colosso, grandissimo, qui abbiamo Amazon, non è, non è, non sono sponsorizzato, è successo, non c'entro questa pubblicità, saltiamole, ok, sapete che io non sponsorizzo praticamente nulla, qua anche di testa, nei calci piazzati sicuramente è una, è un, insomma, è un colosso ed è un grande, sia in difesa che in attacco, è un ottimo, ottimo elemento, calci piazzati, come Bissec, no? Volevo far vedere invece questa azione, e qua capite, no, difficoltà, allora, difesa piazzata, qui c'è un passaggio filtrante dell'altra squadra, Palacios è quello più a sinistra in fondo, che vedete a metà, diciamo così, di per sé avrebbe, ah no, questa, scusatemi, è una, vabbè, fra poco vedete un'azione che, eccola, era questa, era questa, le riconosco a memoria, ormai, vi faccio vedere questa azione qua, qui, ecco, ve la riracconto, perdonatemi, allora lì c'è stata una buona chiusura, perché, torniamo indietro, torniamo indietro, qui bella chiusura, perché il campo finiva, diciamo, allora non c'era molto spazio, l'ala non può andare lunga, e sui spazi brevi, diciamo di copertura, lui è forte, ecco perché centrale, lo metterei così centrale, centrale, perché deve fare la copertura, ma se viene pescato invece, nello spazio aperto, più alto, da braccetto, come in questo caso, quindi, palla lunga, diciamo, sulla corsa, lui, qua avrebbe un sacco di vantaggio, ma alla fine, ci arriva proprio per un pelo, cioè, va più in sofferenza, va più in sofferenza, nel lato, diciamo così, anche qua, alla fine perde palla, no? Queste cazzate, laterali, no? Per cui, è in mezzo a tre difensori, e lui, e lui perde palla, vabbè. Qua, in copertura, verso la fine del campo, arriva dal centro, e riesce invece a coprire bene, quindi vedete, le diagonali, da centrale, difensivo, la Cerbi, ok, perché sfrutta, diciamo, la diagonale, il fatto che lui è già più basso, è in vantaggio, e va a chiudere con la lettura, l'attenzione su quello è abbastanza forte, è attento, ha una buona lettura, meglio di Bissek, in questo senso, per esempio, è più difensivo di Bissek, no? Però, se è sul lato, soffre, oppure, anche, tra le uscite, avete visto, rischiose, e chiaramente, di testa, quando è dentro l'area, è una, insomma, insuperabile, anche gli intercetti, vi dicevo, se è in mezzo, comunque un giocatore che, ha molta stazza, ha gambe lunghe, spesso riesce a intercettare pallone, con i tiri, i passaggi, anche qua, riesce a coprire molto bene, sempre con quella stazza che ha, anche qua, il contatto fisico, vi dicevo, il contatto fisico è bestiale, è difficile, andargli via, infatti, qua, recupera palla, qui, esce, e vi dicevo che, recupera molti falli, i falli li fa un po' così, perché magari, gambe lunghe, si controlla il pallone, in, diciamo, fa un'azione di contropressing, no? Quindi, controlla il pallone, in maniera perpendicolare, alla linea di corsa del pressatore, quindi, in questo caso, in questo modo, ne viene fuori, poi, quindi, diciamo, il pressatore, spesso, gli va contro, e commette fallo, e lui, in questo modo, guadagna, diciamo, il fallo di punizione, però, ecco, non va, non sono dei dribbling, di velocità, capito, di grande velocità, per cui poi va via, fa le serpentine, eccetera, tendenzialmente, quindi, finché fa, il dribbling, il dribbling iniziale, con questo controllo orientato, è, bene, però poi, deve sganciare un po' il pallone, perché se lo porta troppo, viene recuperato, perde il pallone, insomma, ho fatto vedere un pochino di cose, non vado troppo lungo, perché se no, andiamo tardissimo, avete visto, un bel po', mezz'ora di video su Palacios, dovreste conoscerlo adesso, molto meglio, spero di esservi stato utile, di avervi dato anche degli spunti interessanti, che magari non avete sentito in giro, io continuo a ripetere, che secondo me, la qualità, comunque, dell'informazione, delle analisi sportive, insomma, in Italia, è modesta, da quello che vedo in giro, si sta un po' crescendo, nel senso che la nostra battaglia culturale, in generale, nel parlare di calcio, serve, va avanti, insomma, da anni, e si vedono gli effetti palesi, però siamo ancora un po' indietrino, e quindi ho visto troppo, troppe similitudini, a Bastonia, a Bissec, qualcuno addirittura ha detto, ah, siccome è un metro e 96, Bissec, esterno, potrebbe starci, perché non potrebbe fare anche lui l'esterno? no, 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 assolutamente no, assolutamente no, non ha quelle caratteristiche, non è che perché sei un metro e 96, o perché, eh, allora sei giovane, allora, eh, fai l'esterno, non è così, non è così, se fosse così, sarebbe molto semplice, guardi solo il numeretto, e tra che te decidi il ruolo, non è così, bisogna sempre vedere poi, le caratteristiche, come gioca, le percentuali, i dati, eccetera eccetera, le letture, tutto quanto, quindi, niente, per me addirittura, in questo caso, mentre Bisse, che è un braccetto, che tende all'esterno, potrei, vorrei vederlo anche là, questo è un braccetto, che tende all'interno, anzi, anzi, forse è proprio il contrario, secondo me è più un centrale, che può fare anche il braccetto, un po' alla cervi, di magari di due anni fa, ecco, io lo vedo così, Palacios, questo è il mio, questa è la mia lettura sul giocatore, a presto, ditemi quello che pensate, supportate il canale, mi raccomando, e io vi do appuntamento, ai prossimi giorni, con i prossimi video, un abbraccio a tutti, vi voglio bene, forza Inter, sono contento del colpo, e molto curioso di vederlo in azione, dove, come, perché, vedremo, vedremo, a presto.